Allora, io, come diceva, si diceva adesso, è una giornata importante per noi perché procediamo nel completamento dell'offerta dei servizi del campus aggiungendo un servizio che è evidentemente fondamentale per la serenità innanzitutto del nostro patrimonio che sono le persone. I nostri 40.000 studenti innanzitutto che oggi tra poco cominceranno le esame estive, che sono quelle più di maggiore tensione, quindi anche con cali, magari anche transitori cali di zucchero, per cui in cui posso venire incontro anche a dei momenti di difficoltà per la tensione naturale degli esami, per i nostri 2.000 persone che compongono la nostra comunità di personale docente e personale tecniche amministrativa, tutte le altre persone che ruotano attorno all'università. Per cui avere un presidio costante da lunedì al venerdì per l'intera giornata rasserina tutti. La sola presenza, diciamo, qui, avere l'ambulanza qui, avere un supporto specializzato che può intervenire in qualsiasi momento per un primo intervento e poi per il trasporto nei malaurati casi di maggiore complessità nei nostri ospedali, possiamo dire, perché sono i nostri ospedali dell'azienda ospedaliera universitaria, quello di Mercato San Severino e Ruggi d'Aragona, ovviamente ci dà quella giusta serenità. Credo che, io l'avevo detto diciamo in campagna elettorale, che era indispensabile aumentare l'offerta di servizi e in particolare coprire quest'area, diciamo, del presidio sanitario. Anche perché è integrata, perché noi alle nostre spalle abbiamo già un poliambulatorio che offre una serie di prestazioni e anche la presenza di un medico costante. Però ovviamente mancava quel raccordo con la parte operativa, cioè le aule, gli uffici, dove ci sono le persone. E questo raccordo ce lo può dare oggi appunto questo presidio, diciamo, questa ambulanza. E tra l'altro, voglio dire, abbiamo creato anche le condizioni strutturali affinché all'interno della nostra struttura abbiano giusta accoglienza le persone che lavoreranno a questo progetto. Io devo dire molte volte grazie alla Croce Rossa italiana perché ha capito lo spirito con il quale ci siamo mossi per immaginare questo tipo di iniziativa. Uno spirito in cui non ci può essere altro che, diciamo, una solidarietà reciproca per migliorare e per prestare un servizio più appropriato e in questo senso chiedendo anche un sacrificio rispetto a quello che potevano essere dei vantaggi dal punto di vista economico. Quindi oggi per noi è una giornata sicuramente importante. La presenza di tanti studenti dell'associazione studentesca che ci seguono sempre nelle nostre, diciamo, nelle nostre battaglie ci danno anche una capacità di creare idee e quindi anche immaginare servizi innovativi. Lo ringrazio molto perché sono sempre vicino al Rettore nelle iniziative. Noi dobbiamo fare anche questo. Dobbiamo pensare sicuramente alla didattica, alla ricerca perché deve essere un'ossessione quello del miglioramento della nostra qualità all'interno del campus, però dobbiamo immaginare che per poter realizzare questo c'è bisogno di questi tipi di servizi a supporto.